e porta Roma in doppia cifra di punti segnati salendo a quota 11 c'è Mirkowski che piedi per terra si prende un bel tiro da tre punti e punisce la difesa di Roma che non è rientrata in tempo si mette anche i tiri da Trecantù attacco di Roma adesso con Iannicelli che attende il taglio di Tucci che arriva ma arriva anche la stoppata da parte di Mirkowski affidata a Di Giulio Maria passaggio per Mirkowski è eseguita molto bene questa rimessa da Cantù e altri due punti per Mirkowski deve prendersi una conclusione che non è particolarmente nelle sue corde infatti la sbaglia dall'altra parte subito contropiede di Cantù si apre Mirkowski per il tiro da tre punti assegno Mirkowski gioca veramente molto molto bene Cantù che chiude dunque la sua Ibsanex Gen Cup con tre sconfitte molto diverse fra loro mentre con un po' di sfortuna non trova la tripla Caglio trova però Mirkowski il rimbalzo in attacco e il canestro Reggio Emilia con il tiro di Ricco che non va a buon fine dall'altra parte invece arriva la tripla da parte di Mirkowski giocatore di passaporto macedone che canto ha reclutato maestro così come Bojev come al solito sale sulla moto va a seminare il panico Mirkowski da tre punti su di lui è Castellini ancora di Giulio e Maria finta da tripla fuori in angolo anticipo di Mirkowski finta di procida per Mirkowski fuori dall'arco tripla fuori ancora per Lanzi schiacciato per Pozzi altro tiro da tre punti per Procida uno contro uno con Dron fuori ancora per Mirkowski che non sbaglia più contro un zia palla che esce fuori dalla linea di 6.75 buono il pallone per Mirkovic Sbaglio Sbaglio Grazie a tutti. Grazie a tutti.